Ma di chi è la maglia? Responder, grazie. Avete visto chi ero via all'asfalto della pista? E' il rettilinei lunghi di Perala. Chi è la macchina? Rette, è sicuro? Ma l'ha messo sul Tespondo. Vediamo la pista. Deve essere proprio figlia. Quanto la fa? Guarda che rischia di... Guarda che non è caricato. Oh, c'è te...